Siamo con mister Lamanna alla fine della prima sessione di oggi di allenamento. Qual è il morale della squadra? Stiamo lavorando bene già dal 7 agosto. Piano piano stiamo costruendo la squadra per affrontare questo campionato che sarà molto difficile. Abbiamo preso la Maddalonese per vedere le nostre condizioni, come stiamo lavorando e giocare contro una buona squadra che la Maddalonese è una buona squadra. Vogliamo ricordare ai nostri tifosi quali sono i vostri prossimi impegni dopo la Maddalonese? Ma giochiamo adesso domenica con la Maddalonese, poi il 23 abbiamo il Goti, poi il 26 mi ricordo adesso non mi ricordo, ah, le Clanese, mi sembra che le Clanese, l'altro girono di eccellenza e poi chiudiamo con l'ultima partita mi chiedeva il 29 con una rappresentativa di avvocati. Voi siete qui praticamente facendo l'allenamento alla paratina di Chiaiano e quando vi ritornerete al San Mauro a Casoria? Noi chiudiamo la nostra operazione il 29 con l'ultima partita che la facciamo in casa a Casoria, andiamo via del 27, il 28 e il 29 chiudiamo con una partita di Chiaiano e Casoria. Mister, per quanto riguarda i giocatori in uscita e in entrata, pensa che abbiamo, se è concluso qui, tutto quello che è il movimento oppure qual è la sua opinione a proposito? I ragazzi che sono usciti hanno dato tanto a questo Casoria, tutto merito all'ora, hanno portato il Casoria in eccellenza, adesso pensiamo a questo campionato qua, che quello passato ormai è passato, sperando di aver fatto una buona squadra, sperando di aver preso i calciatori che fanno per noi, spero di aver preso non solo i calciatori ma ragazzi seri e tutto, sperando di fare bene. Possiamo anticipare quali sono le aspettative della società per quest'anno, primo anno ripetiamo che Casoria riduce dalla vittoria in prima categoria, la promozione appunto nel girone di promozione e quest'anno praticamente farà per la prima volta dopo tanto tempo l'eccellenza con lei? Diciamo che noi siamo una minima grande, non sappiamo nemmeno noi cosa possiamo dare da questo campionato, però diciamo che noi abbiamo fatto una squadra per divertirci e di far divertire il pubblico di Casoria, sperando di raggiungere più presto la salvezza e giocarci le nostre carte per ulteriori cose. Ok, grazie mister e in bocca all'uvo. Ciao, grazie.